Da mesi circolano con insistenza le voci di una presunta crisi tra i due quasi sei anni fa, Cristian Galella partecipò al dating show Uomini e Donne come tronista. Durante quell'esperienza televisiva con Noob e Tara Gabrieletto, dopo una lunga frequentazione, il giovane la scelse e i due iniziarono una relazione sentimentale con tanto di convivenza. Successivamente, la coppia partecipò a Temptation Island e, l'anno successivo, Galella volò in Honduras per far parte dell'isola dei famosi. Lo scorso anno, i due hanno deciso di convolare a nozze ma da qualche tempo su internet circola con insistenza la voce di una loro presunta crisi. Ma è la verità? Per evitare la diffusione di notizie false, l'ex corteggiatrice ha rotto il silenzio. Nel prosieguo dell'articolo troverete la sua dichiarazione. Gossip Uedì, l'ex corteggiatrice rompe il silenzio sui social. Chi conosce bene Cristiane e Tara sa perfettamente che i due non amano molto postare foto sui social network. Tuttavia qualche giorno fa, precisamente il 25 dicembre 2017, la Gabrieletto ha pubblicato uno scatto di famiglia sul suo profilo Instagram. Al tavolo di un ristorante, accanto all'ex corteggiatrice c'è anche il marito e alcuni familiari. Ovviamente, tantissimi followers hanno apprezzato il gesto della loro beniamina congratulandosi con lei. Addirittura, una seguace in particolare ha ringraziato Tara per aver smentito il rumor sulla sua presunta crisi col consorte. La diretta interessata non ha perso tempo e ha replicato con questa frase secca, l'ignoranza parla, l'intelligenza tace. Con questa affermazione, la giovane ha zittito tutte quelle voci, che sono circolate in questi ultimi mesi. Con questa affermazione, la giovane ha zittito di famiglia, la giovane ha zittito di famiglia, la giovane ha zittito di famiglia. Con questa affermazione, la giovane ha zittito di famiglia, la giovane ha zittito di famiglia. Con questa affermazione, la giovane ha zittito di famiglia, la giovane ha zittito di famiglia. Con questa affermazione, la giovane ha zittito di famiglia, la giovane ha zittito di famiglia.